E siamo live! Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Deep in Crimini, io sono Palla ed ormai da più di un mese credo che non ci sentiamo, quindi bentornati, benvenuti ai nuovi che intanto si sono rimessi in pista con le puntate, bentornati a tutti gli storici, diciamo, amanti di Deep in Crimini. Ciao Clarissa, intanto su Twitch, perché se volete vedere anche il video, Dio che sudo sostanzialmente, perché il video estivo di Palla in Mansarda è Palla che suda, e che parlo di sé in terza persona perché sta delirando. Mi trovate anche su Twitch dopo una lunga pausa, pausa che come ho spiegato anche su Instagram, piccolo alert, seguiteci anche su Instagram dove ogni tanto faccio qualche live, io andrò a qualche live un po' così, e dove spiegavo che è stato un periodo un po' complesso perché scuola, padel e in generale vita ero esaurito completamente, non avevo più energie e anche ci si è messa dentro anche la sparatoria nella scuola di Ovaldi, Texas, che mi ha molto molto colpito, tra l'altro per chi è interessato di mass shootings, school shootings e queste cose, vi invito ad andare a sentire su YouTube, molto più importante di questa puntata di Deep in Crimini, le parole che ha detto Matthew McGonaghy alla Casa Bianca, cioè in inglese, soprattutto in italiano, è un discorso che dura 21 minuti e che mi ha colpito tantissimo, è un discorso bellissimo. Lui è di Ovaldi, Texas e non lo so, vi invito ad andare a ascoltarlo, ripeto, se state ascoltando questa puntata nei giorni successivi su Spotify così lasciatela perdere per 20 minuti e andate lì e poi ci tornate perché davvero è una roba favolosa. E quindi niente, adesso siamo tornati, sono un pochettino più libero perché diciamo che la parte tosta della scuola è terminata e adesso ho la maturità settimana prossima ma sono un pochettino più libero e quindi siamo tornati con la seconda puntata di Marta Russo, dedicata a Marta Russo e quindi niente, niente call to action, oggi si va live, si parla, facciamo una puntata molto grezza che è niente, seguiteci, amateci, donazioni, non mi frega niente, ascoltiamo, parliamo, divertiamoci e cerchiamo di capire, ciao Lucia che è il piano di sotto, muore di caldo e benvenuti a tutti, anche quelli su Spreaker e niente, divertiamoci insieme. Allora, seconda puntata, io ovviamente non voglio fare necessariamente un podcast uguale a polvere perché polvere secondo me è fatto benissimo e spero che abbiate avuto il tempo anche di ascoltarlo o come me di riascoltarlo in questo periodo e quindi tralascio tutta una serie di informazioni che trovate già meravigliosamente espresse dalle due autrici di cui adesso non mi ricordo i nomi ma li avevo citati nella scorsa puntata, mi perdoneranno se mai ascolteranno questo podcast e le due autrici che sono tra l'altro molto brave e molto chiare, al contrario mio che mi perdo nelle parentesi mentali mie loro spiegano molto bene la questione delle particelle, tutte quelle questioni di... io non ci voglio tornare perché non ne so nulla banalmente e quindi non ci torno ma voglio fare un attimo un recap storico di quello che succede dopo il 9 maggio 9 maggio del 1997, quindi siamo alla Sapienza, Marta viene colpita da questa pallottola che vaga e che fluttua alla Sapienza e muore qualche giorno dopo. Il caso abbiamo visto che è super mediatico e ha un sacco di ripercussioni a livello di mass media, telegiornali, radio e tutto quanto, va bene. Gli inquirenti sono, come in tutti i casi mediatici, sotto una grande pressione ma si accorgono, e questo lo ascoltiamo anche nel podcast Polvere in maniera, nella seconda puntata mi sembra fine della prima, inizio della seconda, in maniera molto chiara si accorgono che non sarà facile trovare un colpevole. Perché? Perché non c'è un movente, perché ci sono pochi indizi, ci sono poche prove va bene. Arriva la svolta il 20 maggio del 1997. Perché arriva la svolta? Arriva una svolta, ed è una svolta vera non è una svolta, sapete quante volte, mi ricordo nel caso di Yara che ogni settimana c'ha la svolta e poi la bambina non è stata trovata per tre mesi, è colpevole per quattro anni. Arriva la svolta dieci giorni dopo gli inquirenti che brancolano e brancolavano nel buio arrivano a una svolta, ovvero sul davanzale della stanza numero sei di filosofia del diritto viene trovata una particella che è sicuramente di un colpo di pistola. Almeno all'epoca era sicuramente di un colpo di pistola. questa è una svolta, perché gli inquirenti partono da finalmente un punto definito, un punto fisso, ovvero il colpo che ha ucciso Marta Russo è stato sparato da quell'aula e quindi partono finalmente delle indagini un po' meno generali, un po' meno generiche, ma un pochettino più specifiche. Il podcast poi, pulvere, smonta questa ricostruzione, ma ripeto, ascoltate il loro. Noi facciamo un'analisi storico e poi criminale di questa cosa. Io faccio solo una piccola premessa e una piccola puntualizzazione. in quel periodo, in quei dieci giorni, che vanno più o meno dal 9 al 20, a Roma è piovuto, mi sembra due volte. E questo è grave, perché in realtà un granello di polvere da sparo non credo che, io, ripeto, non sono un esperto, ma a sensazione direi che un granello di polvere da sparo non sarebbe sopravvissuto a un temporale, a una pioggia. Ma gli inquirenti non si pongono questo problema, o se se lo pongono lo risolvono in fretta, e stabiliscono in maniera definitiva, inequivocabile, oggettiva, tassativa, quello che volete, che dalla stanza numero 6 di Filosofia del Diritto viene sparato il colpo che ha ucciso Marta Russo. Fatemi sapere intanto su Spreaker se si sente il condizionatore, se non si sente tanto meglio. Il capo degli inquirenti ha un'idea. Andiamo a controllare il telefono che si trova dentro quella stanza. Controllano il telefono in quella stanza e si accorgono, in realtà sbagliando, ma di questo magari ne parliamo dopo, che da quel telefono partono due chiamate, una alle 11.44 e una alle 11.48, in realtà non è così, ma ci torniamo, ovvero due minuti dopo lo sparo, perché lo sparo, in base a testimonianze e tutto quanto, viene collocato con precisione, dicono gli inquirenti, assoluta, io ho qualche dubbio, continuo ad averlo, ma ripeto, non è sicuramente questo il punto, alle 11.42. Quindi, torniamo sui punti fissi. Sparo alle 11.42 del mattino, dalla stanza numero 6 di filosofia del diritto, sapienza ovviamente, alle 11.44 in quella stanza c'è una chiamata e alle 11.48 in quella stanza c'è un'altra chiamata. Gli inquirenti scoprono ancora in maniera più interessante che quelle due chiamate vengono effettuate dalla stessa persona, persona che dà il titolo a questa puntata, ovvero Maria Chiara Lipari. Maria Chiara Lipari, che è un'assistente di filosofia del diritto, una ragazza giovane, sta facendo il dottorato, incredibilmente intelligente, molto istruita, molto forbita, lo sentiamo anche da come parla, come si esprime, che è una donna molto, molto competente. E gli inquirenti, il 20 maggio stesso, forse il 21, vanno, assolta il 21, perché ci vuole una giornata per fare tutto, vanno e la interrogano. Perché la interrogano? Scusate, bevono un golcino d'acqua perché capite che la temperatura è subsahariana, praticamente. Perché la interrogano? Perché sono convinti che avendo chiamato alle 11.44, lei si è entrata più o meno alle 11.43, 11.42, dentro la stanza. E che, perché comunque per comporre il numero, per chiamare, tutto quanto, più o meno un minuto, tra l'entrata nella stanza abbastanza grande, ci vuole più o meno un minuto e quindi sicuramente ha visto qualcosa. Quindi viene chiamata a testimoniare e, appunto, scoprono una serie di cose. Innanzitutto scoprono che l'aula numero 6, di solito, è chiusa a chiave. Io adesso prendo la mia Bibbia di questo caso, che è il libro che qualcuno me l'ha chiesto su Instagram, a me non ho risposto. Il libro si chiama Di sicuro c'è solo che è morta, di Vittorio Pezzuto. L'aula di solito è chiusa a chiave ed è frequentata unicamente da assistenti di ogni grado. Vediamo cosa dichiara la Lipari. La Lipari è, secondo me, adesso poi vi leggo le prime dichiarazioni, ma la Lipari è, secondo me, il personaggio fondamentale di questa vicenda, che nel giro di 11 giorni diventa molto più importante di Marta Russo. Cioè diventa fino a che, a un certo punto, poi in questa storia c'è sempre un turnover, un cambio di personaggi. Prima Marta Russo, ovviamente, poi la Lipari, poi l'Aletto, poi Liparola e poi Scattone Ferrara. Ma partiamo da Marta Russo per capire come si arriva ai due colpevoli. A Marta Russo, scusate, a Maria Chiava Lipari. Maria Chiava Lipari viene convocata. Maria Chiava Lipari che è figlia di un insegnante, non della sapienza, ma da un professore universitario, ex senatore della DC, quindi anche un uomo, il signor Lipari è un uomo di una certa importanza. E lei dichiara la seguente cosa. Dichiava di essersi recata in istituto verso il 10 e un quarto, di aver salutato il professore Romano, che è il suo capo, diciamo così, il suo principale, trovandolo in compagnia della laureanda Irene Castiglia. Quando il direttore è uscito per incontri, scusate, si è intrattenuta con entrambi, quindi con Romano e con la Castiglia, quando il direttore, quindi Romano, è uscito per incontri già programmati con alcuni suoi studenti. A quel punto, quindi sono circa il 10.45, si è recata in segreteria per scrivere una lettera al teologo tedesco Eugen B. Beiser, non so come si dica. Con lei si trovavano nella stanza dei due segretarie, ovviamente non stiamo parlando della stanza numero 6, ma in un'altra stanza, nella stanza del Fax, le due segretarie Gabriella, Gabriella a letto, che poi tornerà e diventerà una bomba atomica, perché sarà l'unica persona che parlerà mai di una pistola, e Maria Urilli. E poi aggiunge delle altre cose, dice che dopo aver detto alle segretarie di mandare una coppia della lettera per poste e una per fax, il professore è passato nuovamente in segreteria, poi hanno capito che il fax non funzionava. funzionava a quel punto, mentre ero intenta a fare la suddetta fotocopia, ho parlato con due miei studenti, ricordo che la segretaria Maria era al telefono con il mio collega. Se non ricordo male, subito dopo sono entrata nella sala assistenti, quindi nella stanza numero 6, per telefonare allo studio di mio padre. Mi pare che quando ho fatto la telefonata nella sala assistenti non c'era nessuno. 19 e 30 del 21 maggio e l'interrogatorio finisce, viene sospeso. Cosa è interessante di questo? Per intanto mi asciugo, scusate per chi mi vede su Twitch, capisco che non sia piacevole, ma è fondamentale, anche perché sono appena uscito dalla doccia e sono in condizioni complesse. Allora, quali sono i punti fondamentali? Ovviamente l'ultimo, cioè lei quando entra nella stanza numero 6, circa alle 11 e mezza, non trova nessuno. Racconta una giornata abbastanza ordinaria, niente di strano, povera di particolari. Attenzione alla cosa fondamentale, perché ogni tanto questa cosa secondo me non è chiara. Io, per esempio, non sempre l'ho capita, nel senso che nel podcast polvere mi sembra che venga detta, ma secondo me non viene ripetuta con abbastanza enfasi, e quindi lo facciamo noi. Quando noi leggiamo i verbali di Maria Chiara Lipari, noi leggiamo soltanto la verbalizzazione di quello che ha detto. Cosa intendo? Intendo dire che noi leggiamo un riassunto delle sue dichiarazioni, ma non leggiamo né le domande né le risposte intere. Quindi sarebbe stato molto più utile avere una registrazione. Perché? Perché molto spesso, e questo lo dirà lei stessa poi intercettata, sono stati gli stessi inquirenti a metterle in bocca dei nomi che lei non aveva fatto, ma di cui poi lei si convince. E quindi sarebbe stato fondamentale avere una registrazione dove si capisse anche cosa le avevano suggerito gli inquirenti. Ma tenete a mente questa cosa. Noi, nei verbali che abbiamo di Maria Chiara Lipari, leggiamo solo il riassunto delle sue risposte. Ma alle 19.30 del 21 maggio, Maria Chiara Lipari dice non ho visto nessuno nella stanza numero 6 alle 11.44, 11.43, quando entro per fare la chiamata, le chiamate, perché prima chiama a casa, non risponde nessuno, e poi chiama lo studio del padre. Ora immaginate lo stato d'animo degli inquirenti. Cosa intendo? Intendo dire che gli inquirenti finalmente hanno quello che loro considerano la chiave di volta perché hanno la stanza e sanno che in quella stanza c'era Maria Chiara Lipari qualche secondo dopo. E quindi sono convinti, e aggiungo io, in buona fede che Maria Chiara Lipari sappia qualcosa che, o non ci ha fatto interamente caso, o che non vuole dire, o comunque sono convinti che lei sia la super testimone che andrà a sbloccare il caso. Sono convinti anche di altre cose, sono convinti che in quella stanza ci fossero più di una persona, più di due persone, e forse anche tre persone, oltre a Maria Chiara Lipari. Sono convinti di una serie di cose, e inizia un confronto durissimo come Maria Chiara Lipari. Ma alle 19.30 l'interrogatore viene finito. Riparte alle 22.30, almeno il verbale così dice, non sappiamo cosa effettivamente è successo in queste tre ore, ma alle 22 passate dice cambia completamente versione. Non completamente, ma cambia abbastanza. Vediamo cosa dice dalle 22 in poi. Per quanto riguarda la telefonata delle 11.44, solo ora ricordo di aver effettivamente chiamato casa, dove non ha risposto nessuno. Ricordo che sono entrata nella sala assistente, aprendo la porta, che era regolarmente chiusa, seppure non ha chiave. Quindi, già lei aggiunge un particolare. Ovvero, lei dice apro la porta della sala 6, che di solito è chiusa, la trovo aperta, e questo fa sottintendere che dentro ci fosse qualcuno. Quindi già cambia leggermente versione. Poi dice, non sono sicura se dentro fosse qualche altro collega. Prima dice, mi ricordo, mi pare che non ci fosse nessuno. Poi dice, non sono sicura che ci fosse qualcuno. Ricordo che la porta si è richiusa da sola, io ho subito, ho quasi subito digitato l'utenza di casa, ma non ricordo di essermi soffermata a fare altre cose. non ricordo bene se avevo già fatto il numero o se lo stavo per fare dal telefono. Quando mi è sembrato che è uscito dalla stanza, qualcuno frettolosamente. mi è sembrato, se annotate questi verbi di percezione, ho pensato, ho avvertito, ho immaginato, ho questi verbi molto vaghi, di queste percezioni molto vaghe. Quindi lei passa, in due ore da dire, non c'era nessuno, a, mi sembra che qualcuno sia uscito frettolosamente. Quindi di conseguenza c'era qualcuno. E nell'uscire, questa persona mi ha bofonchiato qualcosa. Quindi vedete come non solo aggiunge un macro segmento, cioè passa da, non c'è nessuno, c'è qualcuno, ma poi all'interno di questo nuovo elemento aggiunge dei dettagli, mi ha salutato, ha bofonchiato qualcosa e mi ha salutato. Quindi c'è stato uno scambio. Allora capite che è difficile dire tra voi prima non c'era nessuno e poi no, c'era una persona che mi ha salutato. Anche se poi ovviamente non la identifica, questa persona. O meglio, poi lo farà. Forse ne ho riconosciuto la voce, ma non mi sento di dire chi fosse, perché non vorrei accusare una persona non essendo sicura. Adesso che faccio mente locale, quindi adesso che faccio mente locale, cosa vuol dire? Vuol dire che adesso, adesso che ci penso bene, ma lei non deve pensare. Lei deve dire quello che si ricorda. Non deve pensare, perché pensare vuol dire che si costruisce un ricordo. Adesso faccio mente locale, e mi pare di ricordare che la stanza non fosse vuota. Quindi adesso dice no, quello che ho detto prima è una cazzata. Non so spiegare quante persone vi fossero, sta di fatto che non ho avuto la sensazione del vuoto. Cioè lei dice, io mentre ero in quella stanza e facevo la chiamata, non ho avuto la percezione del vuoto. e gli inquirenti finalmente possono riempire la stanza. Perché fino a tre ore prima la stanza era vuota, e aggiungo io, secondo me, le hanno fatto capire che se la stanza era vuota di conseguenza era stata lei a sparare e che quindi avrebbero avuto sufficienti elementi per incastrarla. magicamente dopo tre ore c'è qualcuno che le passa di fianco e le bofonche ha un saluto e lei non ha più la percezione del vuoto, ha la percezione che invece la stanza sia popolata da persone, da soggetti. non mi pare che vi fossero donne. Attenzione a questo particolare tenetelo a mente, dice non mi pare che vi fossero donne. Preciso che ho avuto la sensazione di un certo movimento, ma non vi ho fatto caso perché mai immaginavo che potesse essere accaduto qualcosa di così grave. Sollecitata ancora, lei dice mi sembra ci fosse Simari Andrea. anch'esso un assistente. Non ho sentito alcun rumore che potesse somigliare ad uno sparo in tutto il periodo in cui sono rimasto nella stanza. Blah 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 poi dice una serie di altre cose. E poi aggiunge un particolare, anzi vi leggo anche questo, poi commentiamo diciamo un po' di cose. Ho saputo della morte, poi lei dice che praticamente va a casa, esce alle 12.10 circa, va a prendere la macchina, va a casa e aggiunge, sempre nel secondo interrogatorio. Ho saputo della morte di una studentessa solo nel tardo pomeriggio perché me ne ha parlato mio padre. Cerchiamo di capire cosa vuol dire questa roba e le implicazioni che ha. lei non si presenta volontariamente ma viene chiamata dai carabinieri perché i carabinieri scoprono che lei era in quella stanza in un momento che secondo loro è il momento fondamentale del delitto e il punto è che loro hanno degli appigli scientifici per rendere oggettiva la loro teoria. Cioè quando loro si presentano davanti a Maria Chiara Lipari non hanno una teoria, hanno dei dati oggettivi. 11.42 c'è stato lo sparo da quella stanza tu hai le 11.44 di là. Devi aver visto qualcosa. Mi immagino Maria Chiara Lipari che dentro di sé pensa ma io non ho visto niente. Ma dice lei nella sua testa inconsciamente se loro mi dicono che per forza devo aver visto qualcosa devo iniziare a pensare. E quindi dopo che la sua prima dichiarazione che io ritengo l'unica dichiarazione che lei fa in maniera del tutto sincera, onesta, spassionata e disinteressata inizia a modificarlo. Quindi inizia a inserire delle persone adesso inserisce questo Andrea Simari ma non è importante. Ma gli inquirenti adesso hanno la stanza piena. cioè c'è almeno una persona. Ma vedete come lei dice non mi la sinistrazione del vuoto bla 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 ma dice non c'erano donne. Questa è l'unica cosa dice mi sembra che non ci fossero donne ma sembra sicura che non ci fossero donne. Ovviamente giorni dopo qualche giorno dopo ci sarà effettivamente una donna secondo lei. Ma una cosa ancora più importante cioè viene a sapere dell'omicidio del pomeriggio perché lei non si accorge di niente. lei quando esce vede un'ambulanza ma non si preoccupa bla 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 questo perché è un dato secondo me importante perché se io sono nel mio ufficio a scuola dove sono succede qualcosa di grave viene una persona si sente male e io sono teso sono preoccupato scariche di adrenalina tendo a ricordarmi tutto quello che succede ma perché sono in una situazione di allerta ma se io non ho la percezione dell'allerta e quindi sono convinto di vivere una situazione assolutamente normale tranquilla non ho questa capacità di ricordarmi ogni dettaglio e questo è importante perché perché lei fino alla sera pomeriggio tardi sera non ha la percezione che a scuola sia successo a scuola all'università sia successo niente e quindi perché dovrebbe ricordarsi in maniera così precisa cosa è successo e infatti lei non se lo ricorda lei si ricorda soltanto che quando ha fatto la telefonata dentro non c'era nessuno questo è quello che si ricorda tutto il resto le viene suggerito cosa vuol dire suggerito perché uso questa parola perché a un certo punto siamo al terzo interrogatorio sempre nella stessa notte ormai è notte fonda è mattino infatti lei tornava a casa alle 5 del mattino dopo che è stata tipo 13 ore interrogata adesso è dopo più di 8 ore ad avanti Carmine Belfiore che è l'ispettore della Digos Francesca Monaldi e il procuratore Ormanni e dice un'altra cosa ancora dopo 3 ore dopo al terzo interrogatorio scusate dice quando sono entrata nella sala assistenti quindi questa siamo la terza versione per chiamare mia madre avevo la finestra di fronte perché è vero dal telefono allora immaginate che il microfono sia il mio telefono dietro il telefono era un telefono fisso ovviamente dietro c'era la finestra però lei poteva girarsi poteva vederla la finestra avevo di fronte la finestra che era illuminata dall'esterno ma non ho visto nessuno vicino ad essa quello che ricordo dice terzo interrogatorio dopo 8 ore di cui gran parte delle ore non esiste una trascrizione o un verbale ricordo di aver visto forse due o forse tre persone due certamente di sesso maschile e una probabilmente di sesso femminile quindi dopo che due ore prima ha detto che di sicuro non c'erano donne adesso c'è una donna spostate verso il centro della stanza e cioè verso la mia sinistra perché lei immaginate che sono io che sono al telefono lei ce li ha alla finestra di fronte e a sinistra al centro della stanza perché lei immaginate che la stanza sia un quadrato è in alto a destra nell'angolo in alto a destra e queste persone parlottavano verso di loro dice anche si trattano sicuramente di persone dell'istituto perché la mia attenzione non è stata tratta dal fatto che si trattasse di persone inusitate e quindi la sensazione che si trattasse appunto di una persona di assoluta normalità di un fatto di assoluta normalità per quanto concerneva quelle persone tant'è che io ho pensato immediatamente dopo a chiamare mia madre certo è la sensazione che ho avuto entrando in quella stanza è stata di forte tensione nell'aria quando mi è passato di fianco il tipo che mi ha salutato bofonchiando qualcosa quello del secondo interrogatorio dice contemporaneamente a questo fatto ho avvertito quasi palpabilmente notate come Maria Chiara Lipari che ha un linguaggio molto forbito molto istruito molto elegante è una persona è una donna intelligente istruita colta no? quindi guardate come il suo lessico è sempre un lessico sensoriale percettivo dice ho avvertito quasi palpabilmente che quella situazione di tensione si era dissolta quindi lei passa da dire in quella stanza non c'è nessuno in quella stanza forse c'è una persona che esce e mi saluta in quella stanza ci sono due o tre persone al centro della stanza che parlottano e non ho la percezione di vuoto in quella stanza entro e c'è una tensione clamorosa palpabile come direbbe lei e quando esco da questa stanza scusate quando la persona che mi saluta esce da questa stanza questa tensione si dissolve quindi cosa sta dicendo sostanzialmente che pochi minuti prima del suo ingresso era avvenuto qualcosa che giustificasse la tensione palpabile cosa poteva essere se no l'omicidio volontario o involontario di Marta Russo quindi lei in un meno di un giorno in una decina di ore riesce a passare da smontare clamorosamente la teoria l'elaborato della polizia a confermarlo in pieno in quella stanza è avvenuto l'omicidio di Marta Russo e abbiamo una super testimone Maria Chiara Lipri a un certo punto dice sempre quella notte notte lunghissima dice ritengo di aver individuato tra quelle persone certamente Liparota che è l'usciere dell'istituto si chiama Francesco Liparota perché si ricorda di uno basso e senza capelli fa anche un complimento e ho la sensazione di aver visto anche Mancini perché dice Mancini perché la persona che esce e che mi saluta bofonchiando mi dice ciao Chiara e Liparota mi dà del lei perché è l'usciere io sono un insegnante una professoressa e invece Mancini che è mio parigrado mi dà del tu e mi sembra di aver conosciuto la voce quindi passiamo da non c'è nessuno a ci sono degli individui solo maschi a ci sono degli individui ma c'è anche una donna a ci sono Liparota e Mancini Liparota e Mancini ma non solo un altro mio ricordo dice lei in quei momenti è la figura di Gabriella Gabriella ha letto che è la segretaria con cui lei lavora a stretto contatto rannicchiata a terra associata a questa immagine c'è anche quella di Liparota che stava dicendo qualcosa nell'orecchio a Gabriella e da lì passiamo a la fine diciamo di questo lungo interrogatorio lei torna a casa ma capite le cose che lei ha detto quella sera cosa ha detto ha confermato che in quella stanza c'erano Mancini oltretutto grandissimo appassionato d'armi Liparota e l'ha letto ora voi mi direte perché questa è la domanda intelligente che sono sicuro che molti di voi si stanno facendo perché fa questi tre nomi e non rossi bianchi e verdi visto che erano tre persone che lavoravano in quella in quell'università in quella e tutto quanto perché e vi dico io quei tre nomi non sono nomi casuali che lei fa partendo dal presupposto che io ci metterei l'anima all'inferno sono sicuro che lei non ha visto né di Parota né Mancini né dal letto anzi di Mancini siamo sicuri dentro lì ma qualcuno ha imboccato Maria Chiara Lipare con questi tre nomi perché guarda caso tutti e tre erano già sotto intercettazione dalla parte delle forze dell'ordine erano noti perché non avevano un alibi forte perché avevano degli atteggiamenti sospetti per esempio Mancini che era un appassionato d'armi per esempio Liparota perché si era scoperto indagando che c'era un giro di cartellini timbrati poi ci torneremo nella prossima puntata sui cartellini di Liparota e sulle sulle debolezze mentali dell'alletto ma guarda caso i tre nomi che lei piazza dentro la stanza numero 6 la stanza dello sparo sono i tre nomi di alcune delle persone intercettate e sotto diciamo l'alentin di ingrandimento dei magistrati degli inquirenti guarda caso e quindi cosa fanno vanno a casa di Mancini ad arrestarlo perché Mancini è appassionato d'armi abbiamo un super testimone che lo piazza in quella in quella stanza ci sono tutti gli elementi per far sì che venga arrestato Mancini viene portato in questura ma Mancini ha un alibi di ferro era a casa con la fidanzata a dormire e può provare che era a casa con la fidanzata a dormire e quindi Mancini non è colui che ha sparato ci occuperemo poi dell'alletto ripeto la prossima puntata sarà la puntata alletto di parole ma cosa succede quando finisce questo interrogatorio fiume va a casa ovviamente Maria Chiavalipri è stremata è stanca è esausta è angosciata è stata interrogata per quasi 13 ore la mattina riceve una chiamata proprio dell'alletto che le chiede guardate la vita com'è strana che le chiede non sapendo che era stata interrogata e che lei aveva fatto il suo nome se si sarebbe presentata al pomeriggio anzi la mattina stessa a fare gli esami e la li pare è piuttosto scocciata e dice di no a un certo punto riceve una chiamata da un suo amico di cui vi leggerò alcuni passaggi questo amico si chiama Jacopo Maggio è un suo amico che le chiede come è andato l'interrogatorio e lei dice di questa abbiamo invece anche la registrazione la trovate su youtube nel podcast di polvere c'è di sicuro ma la trovate anche su youtube dice mi volevano mettere l'angoscia io non me la sono fatta mi volevano ovviamente gli inquirenti io non me la sono fatta sotto non me la sono fatta mette perché non sapendo assolutamente invece mi sono rinvenute in mente duemila cose quasi e questi fino alle 5 del mattino hanno voluto assolutamente che dal subconscio veramente dall'ano proprio del cervello mi venisse in mente qualche faccia qualche immagine cioè in parte sono anche riusciti a recuperare qualche sensazione qualche immagine insomma un casino guarda una cosa di un doloroso e poi parla di intimidazioni adesso non vi leggo tutta la cosa trovate ma dice a un certo punto mi hanno detto mors tua vita mea e quando lei dice a un certo punto parla con Jacopo e dice io non mi ricordavo loro volevano che io tirassi fuori un volto una faccia un nome qualcosa di concreto io dico no non ho visto niente non so nulla finché qualcuno dice va bene allora incolpiamo te per cui o tiri fuori un nome o incolpiamo te questo è il primo interrogatorio le prime tre versioni di Maria Chiara Lipari da lì succede qualcosa Maria Chiara Lipari entra in un vortice psicologico molto complesso Maria Chiara Lipari è una donna fragile è un essere umano fragile e lui era prima del caso Marta Russo ed evidentemente questa cosa non ha aiutato si sente investita quasi in modo divino della responsabilità di trovare il colpevole dell'omicidio perché evidentemente gli inquirenti adulandola perché bastone e carota no good cop bad cop poliziotto buono poliziotto cattivo da una parte la insultavano e le facevano dall'altra però devono averle fatto capire che solo lei e solo la sua testimonianza avrebbero potuto risolvere il caso e quindi lei da una parte si sente investita di questo onore cavalleresco no di questo di questo onere no di dover trovare e lo vive male a un certo punto lei dice io guido come una pazza non dormo più sono sempre nervosa inizia a rispondere male ai suoi colleghi che la chiamano dall'altra succede una cosa anche qua imprevedibile perché nei giorni successivi nelle ore successive tutti a partire dal professor romano il suo responsabile la chiamano per parlare per capire e lei si convince e di questo convince in parte anche gli inquirenti che tutto il dipartimento di filosofia del diritto si sia unito contro di lei perché secondo lei tutti sanno chi è stato e tutti difendono tutti in una specie di associazione mafiosa di un'associazione paramafiosa per coprire i due assistenti colpevoli perché nell'aria già si parla di due assistenti colpevoli e poi ci torneremo sul perché di questa cosa lo faremo in chiusura di puntata lei è una donna con i nervi fiori di pelle una mattina litigate col padre al telefono perché il padre cerca di calmarla di tranquillizzarla di rendere tutto un po' più razionale ma lei non ci vede più è completamente fusa aggiunge sempre nuovi particolari con gli inquirenti allo stesso tempo è convinta che ci sia una cospirazione nei suoi confronti l'esempio massimo arriva quando è convinta di essere seguita da una macchina rossa guidata da due calabresi in realtà è seguita da una macchina rossa ma non sono due calabresi sono due agenti in borghese che la stanno seguendo per proteggerla perché è per proteggerlo perché il giorno dopo questo interrogatorio fiume sui tutti i giornali i titoli sono il super testimone ha parlato e quindi lei viene fuori il nome ovviamente e quindi lei è dentro il ciclone il tornado mediatico del caso Marta Russo non si parla più di Marta Russo si parla di Maria Chiara Lipari da una parte lei è orgogliosa lo fa capire che gli inquirenti l'ascoltino e che lei sia in grado di leggermente direzionare un po' le indagini dall'altra è ovviamente e io dico anche comprensibilmente umanamente sommersa da tutto quello che c'è intorno e ripeto è convinta che il dipartimento stia tramamando alle sue spalle è convinta che tutti siano corrotti che tutti sappiano che nessuno parli che tutti siano mertosi che tutti non vogliano trovare l'omicida solo lei a un certo punto solo io voglio e posso trovare l'omicida quindi lei si sente da una parte appunto investita di questa cosa ma dall'altra ma dall'altra vi leggo vi leggo una sera una cosa che una notte lei chiama il professor Romano e dice questa cosa dice sono molto angosciata non so come dire ci sono insomma tutta una serie di sensazioni lei parla sempre di sensazioni molto brutte relative all'atteggiamento generale dell'istituto di alcune persone io non ho cose diciamo che hanno un profilo penale perché se avessi visto una persona con la pistola in mano non mi farei nessunissimo scrupolo di andarlo a dire ok vedete lei parla di queste sensazioni a un certo punto dirà che forse è lo yoga forse è la respirazione che l'ha fatta le ha fatto vedere delle cose che prima non vedeva e a un certo punto lei minaccia al padre minaccia almeno dice al padre tu questi li devi minacciare riferito agli inquirenti perché ricordo che il padre era una personalità importante un ex senatore con un nome importante e dice tu gli devi dire a questi che devono arrivare con delle prove oggettive non mi possono ammettere a me in mezzo all'occhio del ciclone che io già troppo li ho aiutati perché non mi ricordo non posso puntare il dito contro una persona che non sono sicura di aver visto cioè lei già fa capire io ho già detto più di quanto in realtà sapessi questi devono arrivare con una prova oggettiva io non posso continuare a non dico inventarmi ma a dire delle cose di cui non sono sicura quindi voi capite la gravità perché scattone ferraro vengono messi dentro non per questa dichiarazione ma anche e soprattutto perché lei è l'incipit di un'inchiesta folle ma adesso andiamo avanti e chiudiamo allora eccoci stavo bevendo perché sono 740 gradi e arriviamo alla terza la quarta ma terza quarta dichiarazione nel frattempo lei viene riportata con dei manichini nella nella stanza famosa la numero 6 del di filosofia del diritto dirà altre cose finché verbalizzerà le seguenti affermazioni sono entrata nella sala assistenti e ho visto tre persone nelle posizioni da me indicate questa sera in sede di sopralluogo come ho indicato una di esse di sesso maschile era sulla destra della stanza in prossimità della finestra quindi già prima non c'era nessuno alla finestra adesso c'è una persona di sesso maschile vicino alla finestra ovviamente sta parlando della finestra da cui partirà il colpo che ucciderà Marta secondo gli inquirenti le due persone rappresentate da quelli che stasera erano due manichini verso il centro della stanza erano Gabriella e Liparota quindi l'ha letto e Liparota quindi lei dice c'era un maschio di cui non fa nome vicino alla finestra al centro della stanza c'erano Liparota e l'ha letto anche qua io mi sono chiesto al di là di tutta una serie di discussioni che faremo poi settimana prossima sulla validità dei testimoni va bene ma due persone al centro di una stanza che non parlano tra di loro al centro di una stanza la stanza al centro non aveva nulla perché aveva dei cataloghi in fondo giornali libri cosa stavano facendo che cazzo cazzo stava facendo qualcosa al centro della stanza niente non parlo fermi in modo vabbè da quando lo vidi ad inizio mattinata in sala cataloghi non avevo più avuto occasione di rivedere Liparota io dopo essere entrata in sala assistenti mi sono messa al telefono per parlare con mia madre e ricordo soltanto di una persona che passa a fianco a me per uscire dalla sala dicendo a mezza voce ciao Chiara si trattava di una voce di un uomo quello che all'inizio bofonchiava Liparota mi dà del lei come ho già detto in precedenza la presenza di Liparota e di Gabriella nella stanza mi ha colpito e quindi la ricordo perché normalmente nell'uno nell'altra si sono mai trattenuti in una sala assistenti che è riservata appunto ai docenti di qualunque grado esso siano non riesco a non riesco invece a ricordare per quanti sforzi faccio la fisionomia della terza persona di sesso maschile che deve essere quella che mi ha salutato uscendo evidentemente perché si trattava di una persona usuale nella stanza per cui non ne venne colpita in maniera particolare allora una cosa interessante è che Maria Chiara Lipari racconta una storia molto coerente ed è sempre più ricca di particolari come le storie inventate voi provate a fare questo esperimento inventatevi una storia di quello che avete vissuto quattro giorni fa siete andate al ristorante non vi ricordate nulla ovviamente se non quello che avete mangiato è qualcosa che magari vi ha colpito ma del background non vi ricordate nulla e provate invece a immaginarvelo e dopo un po' vedrete che aggiungerete dei particolari molto coerenti molto possibili molto logici come il fatto che dice non può essere stato l'iparota a darmi a salutare perché mi dà del lei quindi un particolare perfetto ma che sicuramente non è mai avvenuto quindi il suo racconto per me è evidentemente inventato perché è è in ascesa cioè ogni volta aggiunge un particolare che nessuno le chiede un particolare irrilevante ma che evidentemente lei si racconta per darsi credibilità per darsi forza per giustificare a se stessa gli inquirenti guardate che non sto dicendo una puttanata a questo punto dice scusate il giorno dopo la digos la cerca le dice quindi il giorno dopo di questa terza dichiarazione dei manichini le dice che non ha messo una firma su un verbale se può passare in realtà poi starà svariate ore e dirà un'altra cosa la persona da me vista entrando nella sala assistenti tra me e la finestra leggermente spostato sulla mia destra era certamente una persona senza barba né baffi ed anzi con un colorito pallido confermo altresì che la visione delle persone nella sala assistenti è caduta sotto la mia percezione prima che io formassi il numero di casa dei miei genitori anche qua parla di percezione per quanto riguarda le caratteristiche fisiche di quella persona posso solo aggiungere che aveva i capelli castani ribadisco che questa persona girò la testa verso la finestra quando io entrai nella stanza quindi non ebbi modo di vederla in faccia pure se conservo la profonda convinzione dell'istituto e quindi di normale frequentazione e presenza in quella sala assistenti a precisa domanda risponde inoltre che Salvatore Ferraro che mai era stato nominato da lei ma le viene fatta una domanda su Salvatore Ferraro a caso gli inquirenti le fanno una domanda dal nulla di una persona che lei non ha mai citato e lei dice è più che un assiduo frequentatore dell'istituto e quindi non posso dire se quel venerdì 9 maggio ci fosse o no anche se mi sembra di ricordare di aver scambiato con lui qualche battuta a proposito del libro di Pattaro su questo non sono assolutamente in grado di dire nulla di men che vago confermo ancora che quando in uno dei verbali precedenti ho fatto il nome di Mancini quell'altro è stato perché uno dei funzionari della squadra mobile me lo ha suggerito come possibilità ma io non ci pensavo affatto quando sono entrata quando sono andata in segretaria per fare le fotocopie dopo il tentativo di spedizione del fax durante il percorso fatto per andare in sala assistente non l'ho rivisto Gabriele a letto fatto sta che qua per la prima volta si parla di Ferraro mai più parlato lei a un certo punto poi andrà in Israele per qualche per qualche giorno di di vacanza e a un certo punto lei continua in questo odio totale verso tutto e tutti ma finalmente si inserisce la terza persona cioè Ferraro Ferraro ha un problema però e con questo chiudo perché la puntata sta diventando per le lunghe mi sto sciogliendo quindi ci chiudiamo qua poi aggiungiamo domenica Liparota e all'alletto che anche loro raccontano delle cose ai limiti del suo reale ma poi vi spiegherò il perché quindi siamo arrivati con l'alletto e Liparota dentro la stanza anche se vediamo come ce li racconta una persona vicino alla finestra che gli inquirenti le suggeriscono di far capire che è Ferraro ma c'è un problema ancora perché gli inquirenti poi vedremo pensano che Ferraro non potesse essere da solo vicino alla finestra perché perché Ferraro è mancino e l'angolazione della finestra con una persona mancina non avrebbe permesso di sparare doveva sparare una persona con la mano destra dominante capito perché poi entra scattone anche e questo poi ve lo spiego domenica io spero che questa puntata vi sia piaciuta mi spiace se ho dovuto leggere un po' di forse un po' troppo ma volevo rendervi volevo farvi entrare anche nel lessico di percezioni sogni visioni sensazioni ho pensato ho riflettuto mi è venuto in mente no? tutta questa tutto questo adesso lo faccio tutto questo pensiero strano di Maria Chiara Lipari fatemi sapere se vi è se vi è piaciuto allora piccolo appello finale a tutti gli ascoltatori di Pencrimini Michela da Roma vorrebbe istituire un gruppo di ascolto live cioè live che vi trovate voi che avete la fortuna di essere nati o di risiedere nella magica Roma nella città eterna e ha il primo appuntamento se non dico una stupidata del 3 luglio domenica 3 luglio di fare una appunto vi trovate per un aperitivo per una cena una roba così ovviamente alle 7 di domenica vi trovate quindi un gruppo di ascolto live a Roma adesso poi se siete interessati scriveteci su Instagram o meglio su Telegram così poi vi passo il contatto di Michela così vi mettete d'accordo secondo me è una cosa molto carina ovviamente poi ci mandate foto video e tutto quanto magari facciamo anche una una chiamata una chiamata insieme e ci facciamo due risate e se siete di Roma siete interessati volete magari beccarvi ascoltare la puntata discutere un po' di Pencrimini del caso Marta Russo visto che è via Roma o magari volete parlare di Via Poma volete parlare di quello che volete secondo me è un'iniziativa molto carina peccato che sono a 700-600 km da Roma se no sicuramente ci avrei fatto un pensiero quindi scriveteci pure su Instagram o su Telegram che vi facciamo avere notizie di questa bellissima iniziativa io spero che la puntata vi sia piaciuta fateci sapere su Telegram se vi è piaciuta io intanto vi saluto vi ringrazio vi do appuntamento a domenica sera scusate se sono pezzato Marcio ma le enfasi della diretta un saluto a tutti e a domenica ciao ciao a domenica